Signor Ministro, c'è un'urgenza sanitaria e lei ha fatto bene a sottolineare con forza che di fronte a un'urgenza sanitaria, cioè c'è in gioco la salute dei nostri cittadini, l'unico modo per rispondere a un'urgenza sanitaria è la responsabilità e l'unità dell'azione degli intenti. Lo ha fatto bene a sottolineare. Ma proprio per questo, proprio per arrivare a svolgere insieme questo lavoro, dobbiamo anche chiederci se in questa settimana o in queste settimane non solo qualcosa è andato bene, le eccellenze che noi abbiamo ancora una volta messo in campo e dimostrato, ma qualcosa non ha funzionato. Perché c'è stato questo cortocircuito? Perché il panico, il senso di disorientamento nei nostri cittadini è accaduto? Perché solo comprendendo questo, capendo anche se si sono commessi degli errori, si individua ancora di più la modalità con cui lavorare insieme. È evidente a tutti che se abbiamo avuto per esempio i medici e l'ordine dei medici che dice non abbiamo i guanti o le mascherine per lavorare, ancora una volta ci scontriamo con una burocrazia cieca che deve rispettare sempre il centralismo e non ha la responsabilità e non affida la responsabilità a chi ha il compito di decidere, i presidenti di regione, i dirittori sanitari. Se i virologi iniziano a discutere tra di loro e nei talk show dicono che una è una banale influenza e l'altra è una pandemia, se mi permetta, chi deve garantire l'unità dell'azione, che è il presidente del Consiglio, magari stressato, gli do questo alibi, si lascia andare a polemiche e mette in discussione l'eccellenza delle eccellenze che lei oggi ha risottolineato e ha fatto bene a sottolinearle, che è la sanità italiana, ma mi perdoni, la sanità lombarda, la sanità veneta, la sanità del nord. E ricordo a tutti che ancora una volta quello è l'esempio dell'accoglienza, perché tutti i tanti cittadini da tutte le parti d'Italia vengono e sono venuti a curarsi nei nostri ospedali. E questo è il grande segno dell'unità del nostro Paese. Bene, allora richiamarci all'unità vuol dire anche riconoscere questo. Seconda urgenza, e voglio soffermarmi su questo, l'urgenza economica e sociale che sta scoppiando. Sette o otto miliardi di perdita di prodotto interno lordo. Il nord del Paese che è stato colpito rappresenta il 60% del nostro prodotto interno lordo. La meccanica, la manifatturiera, le fiere, Milano, Bologna, Verona, 60 miliardi di fatturato, due mesi che non si svolgeranno le principali fiere. Il Salone del Mobile che viene spostato, 40 miliardi, 15 mila imprese che rischiano di chiudere. Meno 40% del turismo. Questa è l'altra urgenza che dovremo affrontare con serietà. E non servono panicelli caldi. Servirà una grande investimento in Italia e nel dialogo con l'Europa. Concludo, Presidente, perché oggi ci è venuta una lezione a tutti in questa situazione da un preside, il preside di un liceo scientifico statale di Milano, il liceo scientifico Volta. Credo che, se me lo permette il Presidente, di leggere in conclusione le parole che lui ha rivolto ai propri studenti di Milano che sono a casa. E lo ha fatto nella maniera più semplice. Dovremmo forse imparare noi dalle parole di questo preside. Citando il capitolo 31 dei Promessi Sposi, la peste del 1630, diceva «Cari ragazzi, niente di nuovo sotto il sole, mi verrebbe da dire. Eppure la scuola chiusa mi impone di imparlare. Non sta a me valutare l'opportunità del provvedimento. Non sono un esperto né fingo di esserlo. Rispetto e mi fido delle autorità e ne osservo scrupolosamente le indicazioni. Quello che voglio però dirvi è di mantenere il sangue freddo, di non lasciarvi trascinare dal delirio collettivo, di continuare con le dovute precauzioni a fare una vita normale. Non c'è alcun motivo per prendere d'assalto i supermercati e le farmacie. Le mascherine, lasciatele a chi è malato. Servono solo a loro. La velocità con cui una malattia può spostarsi da un capo all'altro del mondo è figlia del nostro tempo. Non esistono muri che possono fermarlo. Secoli fa si spostavano ugualmente e solo un po' più lentamente. Ce lo insegnano Manzoni e forse ancora di più Boccaccio. È l'avvelenamento della vita sociale, dei rapporti umani, l'imbarbarimento del vivere civile. L'istinto atavico quando ci si sente minacciato da un nemico invisibile è quello di vederlo ovunque. Il pericolo è quello di guardare ad ogni nostro limite come ad una minaccia, come a un potenziale aggressore. Rispetto e concludo, signor Presidente, alle epidemie del XIV e XVII secolo noi abbiamo dalla nostra parte, e lo ha impegnato il Ministro. La medicina moderna non è poco, credetemi. I suoi progressi, le sue certezze. Usiamo il pensiero razionale di cui è figlia per preservare il bene più prezioso che possediamo, il nostro tessuto sociale, la nostra umanità. Se non riusciremo a farlo, la peste avrà vinto davvero. Vi aspetto presto a scuola. Una lezione di scuola vera, di pensiero e di educazione alla persona. Credo una lezione a tutti noi.